L'Affer Packaging, siamo a IBA 2018 a Monaco di Baviera in Germania. Potete vedere nel nostro stand le ultime realizzazioni che applicano le tecnologie più innovative al servizio di una clientela esigente e soprattutto con bisogno di personalizzazione. Quindi possiamo seguirvi nel progetto, dialogando con voi, discutendo le possibili soluzioni. Possiamo proporre delle idee che difficilmente potete trovare parlando con altri. E quindi vi aspettiamo al padiglione B1 stand 371.